Musica Giustizia per Lello, il dolore di Miano, commozione stamane ai funerali del giovane calciatore Raffaele Perinelli, ucciso a coltellate al termine di una lite, basta sangue, l'appello lanciato dal parroco dall'altare, soccorsa per un malore la nonna del giovane. Studenti e migranti, la rabbia in piazza, blocchiamo la città contro il governo, serve un vero cambiamento nel settore dell'istruzione. Questa la denuncia dei giovani associazioni che hanno manifestato da Benevento ad Avellino, da Napoli a Salerno, accuse a Salvini e Di Maio. Schiaffa alla luna, genitori denunciano, è successo nella scuola elementare dell'istituto comprensivo di Monteforto Erpino a denunciare il caso ai genitori della bambina che si sono rivolti ai carabinieri, accertamenti in corso. Universia di svolta sul villaggio Atleti, riunita la cabina di regia nella sede della regione Campania, la seconda nave per gli atleti c'è, la costa crociere ha risposto al bando. Il commissario Basile ha anche fatto il punto sullo stato dei lavori e degli impianti, ritardi da recuperare. Truffa nel sannio con i falsi matrimoni, si combinavano nozze fittizie per ottenere la cittadinanza italiana. A Benevento è stato chiesto il processo per 5 persone, finita al centro dell'inchiesta, partita su alcuni matrimoni celebrati in Marocco. Nuove luci d'artista, De Luca è critico, fa già discutere la nuova edizione delle luminarie, il che lungo il corso di Salerno si è ispirata alla costiera amalfitana tra limoni e immagini marine. Anche il governatore è perplesso, servono modifiche. Buonasera dal TG 696, in apertura c'è la cronaca. Qui lo stato non c'è, basta violenza a Miano, troppi giovani si fanno giustizia da soli. E il grido di dolore di Don Salvatore ai funerali di Lello Perinelli, il 21enne morto per una coltellata al cuore. Oggi migliaia per i funerali nella chiesa di Via Iamfolla. Vediamo il servizio di Simonetta Iappariello. Qui lo stato non c'è, ognuno si fa giustizia da sé, ordine da sé. Sono le dure parole di Don Salvatore V, parroco della chiesa dei Santi Alfonso e Gerardo, che chiudono una giornata contrassegnata da dolore e rabbia. I migliaia hanno preso parte a Miano, ai funerali di Raffaele Perinelli, il 21enne ucciso con una coltellata al petto sabato notte. Il suo assassino è reo confesso, ma i familiari chiedono giustizia per una morte assurda, per la tragica fine di un ragazzo per bene, lontano da ogni logica criminale. Il feretro è arrivato nella chiesa di Via Iamfolla, a Milano, poco prima delle ore 10. Ad accoglierlo una folla incontenibile e centinaia di palloncini azzurri e bianchi. La madre Adelaide, la sorella Francesca, i parenti più stretti, si sono letteralmente accasciati a terra. Sono stati costretti a intervenire i sanitari del 118. Anche la nonna è stata colta da malore, mentre gridava disperata il suo dolore. Sulle maglie, sugli striscioni, nelle parole sussurrate a filo di voce, una sola ossessione, giustizia per Lello. Basta questa violenza, abbiamo dei figli tutti. È straziante, specialmente quando la violenza è dei giovani. Non so come si fa a sopportare una perdita del genere, è ad assurdo questo. Ottanta, posso morire, ma lui no perché aveva un avvenito, aveva un successo che doveva fare, no? Ed è finita ignorantamente. Mi sono distrutto dal dolore perché io anche ho perso un figlio di 23 anni in un incidente e posso solo aggiungere che peccato, che peccato, si poteva evitare questa morte. È Maria Filippone, la reggente del liceo San Nazaro di Napoli, l'attuale preside del liceo Genovesi. Stamattina ha firmato la reggenza della prestigiosa scuola che ha sede al Vomero presso l'ufficio scolastico regionale, alla presenza del direttore Luisa Francese. Laura Colantonio, la dirigente del San Nazaro, è stata sospesa con effetto immediato perché su di lei grava un procedimento disciplinare conseguente all'ispezione ministeriale che ha portato a evidenziare un numero eccessivo di classi accettate, non coerente con l'offerta formativa e la mancanza delle basi per ricostruire un rapporto in piena serenità con studenti, famiglie e docenti. Lunedì prossimo gli studenti del San Nazaro potranno conoscere la nuova preside. Non solo i problemi del mondo della scuola ma anche i temi della sicurezza e dell'immigrazione al centro della protesta che oggi ha portato in piazza centinaia di studenti ma anche migranti e il movimento femminista. Napoli azione dimostrativa davanti alla questura. Vediamo il servizio di Maria Teresa De Lucia. Studenti, migranti ed il movimento femminista sono stati i principali protagonisti dei cortei che hanno animato tutte le città campane. La regione ha aderito in maniera compatta alla manifestazione indetta in tutta Italia contro il decreto Piloni, il decreto sicurezza ed il decreto scuole sicure. I migliaia in strada contro il governo. A Napoli ad aprire il corteo la comunità migrante. Cancellare questo permesso per motivi di mentale significherebbe lasciare migliaia di fratelli, migliaia di sorelli, migliaia di minori senza documenti. Lasciare queste persone a soldo della mafia, dal caporalato, dalla criminalità organizzata. Perciò siamo qui oggi in piazza con gli studenti. Il decreto scuole sicure per quel che ci riguarda è una misura assolutamente inefficace. Il governo ha stanziato 2 milioni e mezzo di euro per 12 città italiane per combattere lo spaccio all'interno delle scuole. Noi crediamo che ci potrebbero essere molti più soldi spesi molto meglio se proprio si vogliono combattere la criminalità organizzata e l'imprenditore armata. Durante la manifestazione è un'azione dimostrativa e di protesta dinanzi alla questura di Napoli. Chiamiamo la provocazione, abbiamo lasciato un grosso spinello, una grossa canna fuori all'ingresso della questura così magari le nostre forze dell'ordine e il nostro ministro degli interni si rilasseranno un po' di più e penseranno a combattere in maniera un po' più concreta la camorra, la mafia e l'andrangheta. Migranti in corteo anche a Benevento per difendere e sostenere le esperienze di accoglienza. A Salerno il corteo si è concluso con un'assemblea pubblica in piazza Mendola e con la richiesta alla provincia di un tavolo tecnico per gli interventi di edilizia scolastica. Ad Avellino la questione Mancini, le edilizie scolastiche e i trasporti sono stati al centro delle richieste degli studenti. Un caso ancora da chiarire, quello accaduto alla scuola elementare di Monteforto Erpino dove un genitore di una luna ha raccontato ai carabinieri che la figlia è stata picchiata da una maestra. Secondo la denuncia dei genitori, l'insegnante avrebbe dato uno schiaffo alla piccola lasciandole anche un segno al volto. Diversa la posizione della maestra che invece ha dichiarato di non aver mai toccato la luna ma che invece è stata lei vittima di un'aggressione da parte dei genitori. Un caso quindi tuttora da chiarire sul quale indagano i carabinieri. Cambiamo argomento. Toninelli, un ministro con i bigodini che ricorda un maccarone. Ironia feroce di De Luca contro il responsabile delle infrastrutture che poi critica anche la scelta del commissario per Bagnoli. Floro Flores è incompatibile, inesperto, netto dissenso della regione. Il governatore dettaglia poi il piano da 10.000 assunzioni nei comuni che assicura partirà a breve. Vediamo. Il piano per il lavoro con l'assunzione di 10.000 giovani nella pubblica amministrazione ma anche ironia feroce nei confronti dell'inquilino del di Castero alle infrastrutture Danilo Toninelli, paragonato a un maccarone e definito ministro con i bigodini. Nel consuet appuntamento settimanale sull'Ira TV il governatore Vincenzo De Luca annuncia prima di tutto la svolta per il piano occupazionale nei comuni, finanziato dalla regione. Non si tratta di rigonfiare la pubblica amministrazione. Non si tratta di fare spesa pubblica parassitaria. Si fa un'operazione assolutamente trasparente. Le procedure concorsuali vengono gestite dal Formez, non dalla regione. Nel frattempo i comuni hanno un mese di tempo per segnalare alla regione le esigenze che hanno di pianta organica. Poi l'affondo durissimo nei confronti di Toninelli. Se possiamo consentirci qualche ironia con il ministro Toninelli ho già da quanto si è presentato questa immagine di ministro con la permanente, i bigodini, e non si fa. Il detto latino nome è nome, nel nome è un presagio. C'è una leggera assonanza tra Toninelli e i Toninelli. Non è mancato infine un passaggio su Bagnoli. Dalla regione parere negativo sul commissario Floro Flores. Per De Luca ci sono evidenti incompatibilità e scarsa esperienza amministrativa per la figura scelta dal governo Lega 5 Stelle. Abbiamo segnalato questi problemi e motivato il nostro dissenso. Il governo si assumerà da oggi in poi tutte le responsabilità della vicenda Bagnoli. Universiadi riunita alla cabina di regia nella sede della regione Campania. La seconda nave per gli atleti c'è Costa Crociera. A risposto al bando il commissario Basile ha anche fatto il punto sullo stato dei lavori, degli impianti. Vi diamo il servizio. La seconda nave che dovrà ospitare oltre 4.000 atleti attesi per le universiadi della prossima primavera è stata trovata. In tutto saranno 8.000. Accanto alla MSC Lirica che aveva già firmato il contratto, alla stazione marittima di Napoli attraccherà anche la nave di Costa Crociere che ha risposto al bando. E quanto è emerso nel corso della cabina di regia che si è svolta nella sede della regione Campania con il commissario per le universiadi Gianluca Basile, il vicepresidente Fulvio Bonavitacola e il capo di gabinetto del comune di Napoli Attilio Auricchio. Procedono con celerità anche i lavori negli impianti che dovranno ospitare le varie discipline sportive. Per lo stadio al Bricci di Napoli e il campo di tiro al volo al Sant'Angelo in Formis si è deciso che non saranno utilizzati per le universiadi. Tempi troppo lunghi per la ristrutturazione. Le gare saranno spostate ad Afragola e in provincia di Casetta. La prossima settimana si chiuderà anche l'accordo con la mostra d'oltremare per le gare di judo e tuffi. Firmato il decreto che dà inizio ai lavori all'interno della storica struttura sportiva dello stadio Caduti di Brema di Barra che ospiterà le squadre di calcio per gli allenamenti. Procedono anche i lavori allo stadio San Paolo. Dopo l'incontro con De Laurentiis il commissario Basile studia una soluzione per lasciare i maxischermi in dotazione all'impianto di fuorigrotta anche dopo l'evento. Per quanto riguarda l'area medica la commissione ha deciso di affidare l'assistenza sanitaria alle facoltà di medicina di Napoli e Salerno. A novembre, ha spiegato il commissario Basile, ci sarà anche una cabina di regia allargata ai sindaci delle città coinvolte perché ci sono i fondi e bisogna lavorare concretamente per raggiungere gli obiettivi. La morte del medico Ugo Masucci ad Avellino dopo che la procura di Avellino ha archiviato il caso come suicidio e la famiglia del noto professionista che aveva chiesto di riaprire il caso in una lettera aperta esprime forti perplessità sull'esito delle indagini. Troppi sono gli elementi che rendono questo caso difficile, si legge, quello che ci domandiamo è se un'incongruenza possa essere ritenuta di per sé un mancato indizio se cioè ci si possa accontentare di un'ipotesi di suicidio. Il GIP ha scritto che la famiglia non accetta il suicidio e perché si vergognerebbe del gesto. Questa è una considerazione che noi contestiamo con fermezza, scrivono ancora. La nostra famiglia non rifiuta pregiudizialmente l'ipotesi del suicidio ma vorrebbe che questa ipotesi fosse ancorata a dati certi non a valutazioni moralistiche francamente inaccettabili. Nelle richieste difensive avanzate né le deduzioni tecniche né le nostre consulenze sono state ritenute meritevoli neppure di un cenno da parte del magistrato. Eppure noi volevamo e vogliamo solo conoscere la verità. A questa verità, a questa serenità, frutto della conoscenza, avevamo ed abbiamo diritto. Conclude così la famiglia del medico Masucci. A Marcianise, nel Casertano, ha sequestrato un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti in una zona asi titolari dell'azienda, indagati per smaltimento abusivo. Angelo Giuliani. Stoccava più rifiuti del consentito e così è scattato il sequestro di un impianto nel Casertano, smascherata una gestione di rifiuti irregolare e pericolosa per la salute dei cittadini. Lo ha accertato la Procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere che ha fatto scattare il provvedimento a carico dell'Allea SRL, società che gestisce nella zona asi di Marcianise l'impianto per lo stoccaggio e il recupero dei rifiuti. In mattinata, gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato lo stabilimento e anche i camion della società che trasportavano rifiuti. Nel corso delle indagini, infatti, è emerso che fuoriusciva per colato il pericoloso liquido tossico prodotto dalla frazione umida. Il sequestro, disposto dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capoavetere, è scattato perché i titolari dell'azienda, indagati per il reato di smaltimento abusivo dei rifiuti, non hanno attuato le prescrizioni imposte dalla Procura nel luglio scorso, quando un sopralluogo della Polizia Municipale dell'ARPAC aveva portato alla luce numerose irregolarità nella gestione dell'immondizia. Era stato trovato un quantitativo di rifiuti superiore a quello consentito alla società e la perdita di percolato dai rifiuti umidi aveva innescato il concreto rischio che il liquido finisse nel sottosuolo e quindi nelle falde acquifere. Per giorni lo stesso sindaco di Marcianisi, Antonello Velardi, si era piazzato su un asdraio di fronte all'ingresso dello stabilimento per protestare contro il cattivo odore provocato dai rifiuti accumulati all'interno, arrivando poi a firmare il 12 luglio l'ordinanza di sospensione dell'attività. L'azienda però non ha mai provveduto a smaltire i cumuli di immondizia fino al provvedimento di sequestro scattato oggi. Blizze notturno dei carabinieri in una piazza di spaccio nel quartiere di Scampia a Napoli sgominata una gang di 12 spacciatori ritenuti in collegamento con la camorra. I militari della compagnia Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA a carico delle 12 persone nella zona nord del capoluogo campano ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata allo spaccio e spaccio di eroina e cocaina. I arrestati sono considerati gestori e pusher di una piazza di spaccio allestita nel quartiere per lo smercio al dettaglio di grossi quantitativi di droghe pesanti così come emerso nel corso delle indagini dei militari della stazione quartiere 167 con servizi di osservazione e pedinamento sull'insediamento di edilizia privata chiamato lotto 582. falsi matrimoni per ottenere la cittadinanza Benevento è stato chiesto il processo per 5 persone finite al centro di un'inchiesta partita su alcune nozze celebrate in Marocco vediamo Aveva sperato di trovare l'amore della sua vita che dopo anni di celibato avrebbe potuto finalmente avere una compagna invece si è ritrovato sposato divorziato e successivamente al centro delle indagini che lo accusano di aver contratto quel matrimonio in cambio di denaro per consentire l'ingresso in Italia della straniera protagonista della vicenda che chiama in causa altre 4 persone è un 46enne di Vitulano nel Sannio oggi il sostituto procuratore Miriam Laparorce ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone due delle quali una 35enne ed una 42enne di nazionalità marocchina sono irreperibili nel mirino degli inquirenti il sistema attraverso il quale sarebbe stato favorito l'accesso al nostro paese di cittadini stranieri secondo l'accusa gli indagati avrebbero organizzato matrimoni fittizi che sarebbero serviti al ricongiungimento familiare il tutto in cambio di cifre che sarebbero state versate agli intermediari che ne avrebbero poi girato una quota a coloro che erano disposti a sposarsi con donne provenienti dall'estero matrimoni celebrati in marocco poi l'arrivo in italia e le richieste di permesso di soggiorno per motivi familiari presentate presso gli uffici competenti e del cui andamento si sarebbe occupato proprio la persona di vitulano è stata effettuata l'autopsia sul corpo di vittorio spagnolo il 76enne ritrovato cadavere nella sua abitazione di via benigni ad avellino l'uomo secondo quanto accertato dall'esame autoptico è morto per il colpo esploso dal suo fucile legalmente detenuto che lo ha colpito al petto quindi nessun incidente ma un gesto estremo dell'anziano sotto sciocchi residenti della zona che conoscevano l'uomo una persona per bene e nessuno immaginava che potesse compiere un tale gesto il 76enne lascia la moglie e due figli il magistrato di turno dopo l'esame ha dissequestrato la salma per poter procedere ai funerali lucida artista a Salerno il 9 novembre parte la manifestazione proseguono le operazioni di montaggio in città ecco cosa ne pensa la gente ha detto la sua anche il governatore Enzo De Luca vediamo mentre proseguono in tutta Salerno le operazioni di installazione delle luci d'artista per l'edizione 2018-2019 la gente si divide c'è chi apprezza le nuove luminarie già visibili nella zona orientale e da pochi giorni anche nel centro storico della città e chi invece è critico e sui limoni pendenti su Corso Vittorio Emanuele si è espresso anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha detto alcune cose sono bellissime altre richiedono delle integrazioni servono rami e fogli altrimenti i limoni sembrano fiori di zucca il comune deve sollecitare la Blasher Illuminazione ditte esecutrice dispiace poi che siano andati via i pinguini per i delfini ma a Salerno ci sono rimasti i nostri ironizza il governatore belle non le abbiamo viste di sera ma già vederle così rendono tanto diverse più che belle o brutte diverse come ogni anno aspettiamo sempre la sorpresa delle luci di artista personalmente preferivo quelle dell'anno scorso il limone mi dà la sensazione di qualcosa di poco simpatico ma dove stanno? ecco lì anche se luci di artista non mi piacciono certamente sembrano un po' estive come ornamento diciamo diciamo che però bisogna vedere di sera che effetto fa invece erano più belle l'anno scorso o no? forse hanno avuto fare un richiamo proprio al prodotto tipico di Amalfi hanno messo i meloni appesi al corso limoni ah no io li ho visti come meloni perché ho attraversato ma hanno messo i meloni quest'anno ecco quindi adesso vado a vedere perché però sono luci d'artista io non lo so che cosa hanno di artista non lo so è una cosa differente dagli altri anni vediamo come viene è il momento delle lacrime per i lavoratori per cop di Avellino che hanno smontato la tenda simbolo della loro protesta le strade di alcuni di loro si divideranno ma la nostra battaglia assicurano continua il tempo di un'ultima foto tutti insieme poi arriva il momento di smontare quella tenda simbolo di una lotta durata cinque mesi i lavoratori per cop di Avellino ammainano le loro bandiere ma la nostra battaglia proseguirà dicono anche per chi ha deciso di mollare di accettare il trasferimento o semplicemente cercare un nuovo impiego farlo a 40 50 anni certo è difficile ma ripartiamo con il gran bagaglio di questa esperienza umana impagabile noi ci abbiamo messo tutto siamo stati dei grandi lavoratori però la cop ci ha abbandonato questa la speranza per chi rimane soprattutto per loro di trovare un futuro sereno quantomeno abbiamo vissuto 20 anni come lavoratori in questa azienda in 5 mesi abbiamo conosciuto delle persone completamente diverse abbiamo imparato a conoscere quelli che non vedevamo praticamente mai sul lavoro perché i turni non combaciavano bisogna guardare avanti sempre con la speranza noi continueremo noi continueremo a non mollare il nostro motto continua l'esperienza con i colleghi e amici che si sono rivelati tali è stata un'esperienza importante nella nostra vita che ci ha segnato e lascerà questo segno a lungo io ho scelto di andare via la mia decisione è molto sofferta perché appunto per me i colleghi sono sono tutto io sono tra quelli che ha scelto di restare in azienda azienda sarà un enigma però voglio dire l'unica cosa che ci rimane turismo questo pomeriggio al museo del sannio di benevento confronto a più voce tra istituzioni associazioni operatori del settore il presidente petito dice per promuovere il territorio importante il dialogo istituzionale vediamo il servizio è il turismo la sfida che il sannio deve vincere per andare oltre i propri confini questa è la mission del nuovo movimento internazionale presentato questo pomeriggio presso il museo del sannio di benevento la presenza del presidente della provincia Claudio Ricci del direttore artistico di Stregarti Eraldo Vinci Guerra Paolo Delbianco della fondazione Delbianco e il presidente di Federturismo Giuseppe Petito un confronto a più voci tra istituzioni operatori del settore per partire proprio dall'importanza del dialogo e della sinergia tra le diverse realtà presenti sul territorio è sicuramente una buona opportunità per parlare del turismo del sannio ma anche una grande apertura internazionale il nostro obiettivo è uscire benevento un po' fuori da quelli che sono i schemi un po' fuori da quelli che sono attualmente le nostre strategie applicate fino ad oggi con un turismo diciamo un fai-da-te che però comprende fino al centro-sud non più di tanto diversi progetti per il futuro e che presso coinvolgeranno anche il territorio sannita sicuramente la prima cosa che vedremo è la nostra presenza alla fiera turistica e commerciale a Mosca questo è stato il nostro primo obiettivo ecco perché qui siamo questa sera riuniti e abbiamo avuto già un incontro proprio con le persone del settore per vedere un po' l'adesione c'è stata tantissima e poi ci saranno le varie tappe che il nostro movimento cercherà di formare man mano che andremo avanti l'ordine dei medici celebra i fasti della scuola salernitana nell'ambito della diciannovesima edizione delle giornate dedicata alla prima istituzione medica dell'Europa del Medioevo le celebrazioni iniziano nel giorno in cui emerge il dato che gli universitari di medicina iscritti a Salerno sono i primi del sud e quinti a livello nazionale vediamo il convegno di studi ospitato oggi presso la sede provinciale è solo il primo appuntamento del ricco cartellone delle giornate della scuola medica salernitana i camici bianchi hanno dato il via agli eventi che spaziano dalla scienza con il focus sulle ultime scoperte della ricerca alla giornata dedicata al giuramento di Ippocrate e ai premi scuola medica salernitana l'associazione Utopia protagonista del convegno presso la sede dell'ordine dei medici è stata un'occasione per ribadire ancora una volta quanto la scuola medica salernitana la prima dell'Europa medievale sia stata decisiva per lo sviluppo della disciplina il convegno di oggi è proprio questo da una parte la celebrazione di una storia di importanza eccezionale per quello che ha rappresentato nell'alto medioevo la scuola medica salernitana ha rappresentato veramente un faro che ha emanato una cultura che si è diffusa in tutto il bacino di misericordia e a tutta l'Europa oggi è l'immocidentale quindi è una celebrazione che noi salernitani dovremmo periodicamente fare per ricordarci le glorie del passato naturalmente è un messaggio rivolto anche all'oggi se uno pensa a dei cardini della scuola medica salernitana che dal punto di vista medico era orientato alla prevenzione quindi tutti gli studi sulla come il modo di comportarsi avevano un sottofondo culturale che nasceva dall'esigenza di prevenire le malattie e poi il medico della scuola medica salernitana è un medico attento ai rapporti umani rapporti interpersonali perché era intriso di un sentimento religioso che poi in effetti sul piano della scolastica aveva assunto condommato da qui in un altro aspetto noi vorremmo ricordare questo evento ed era l'ultima notizia il Tg termina qui grazie di averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti